ciao bianconeri bentornati sul mio canale do vita oggi a una serie di video nuovi oggi è giovedì 25 novembre 2021 ed è uscita su amazon prime la serie la prima serie chissà se ce ne saranno altre dedicate alla juventus si chiama all or nothing juventus non è una novità per amazon perché già è stato fatto la stessa cosa per altre squadre mi viene in mente il manchester city mi viene in mente il tottenham sono serie fatte benissimo con una qualità di riprese pazzesca e anche molto molto interessanti per noi amanti del calcio perché le telecamere di amazon seguono la squadra dall'inizio della stagione fino alla fine negli spogliatoi in casa con le famiglie si sentono le voci che solitamente non sentiamo mai le riunioni di mercato le battute i momenti belli anche i momenti di grosse arrabbiature e allora questa serie di miei video ne farò una per ogni episodio di questa serie gli episodi sono già usciti tutti quindi chi di voi a amazon prime può vederseli tutti di fila in una volta sola ma io per comodità ho deciso di fare un video per ogni episodio in modo tale che vi dico le frasi che mi sono rimaste impresse e anche voi qui sotto nei commenti mi dite il vostro parere ovviamente la premessa è questa ci saranno tanti spoiler quindi se non avete ancora visto le puntate e intendete vederle non guardate i miei video perché in questi miei video vi parlerò dei contenuti di queste di queste puntate chiamiamole così anche se è meglio non è un poliziesco dove alla fine si deve scoprire l'assassino quindi di spoiler sappiamo benissimo tutti come è andata la stagione di pirlo già perché questa all or nothing juventus è stata registrata durante la scorsa stagione quindi parte sostanzialmente dall 8 di agosto 2020 quando è stato esonerato maurizio sarri quindi la prima puntata si concentra subito sull'arrivo di andrea pirlo e ovviamente poi tutta la serie tutte le puntate parleranno di quella stagione lì è una stagione importante da da guardare perché la prima e purtroppo ultima stagione di pirlo come allenatore della juve poi vi dirò perché purtroppo l'ultima di buffon l'ultima di ronaldo l'ultima di paratici quindi insomma ne vale la pena ne vale veramente la pena io ho preso degli appunti quindi ogni tanto li leggerò delle cose che mi hanno colpito della prima puntata rimane il fatto ragazzi che se avete amazon io vi invito a guardarle perché in questi miei video non posso ridirvi tutto il contenuto della puntata le puntate durano circa 40 minuti ok questo giusto per vostra informazione allora partiamo subito mi raccomando spoiler alert se non volete spoiler interrompete qui perché da questo momento vi dirò che cosa è successo nell'episodio ok episodio 1 tutto parte con una sorta di riassuntone generale si vedono tanti giocatori qualche voce qualche frase buttata qua e là giusto per far capire che cosa ci aspetta da questa serie una frase importante quella di chiellini a inizio a inizio puntata dice la difficoltà è far diventare una squadra 25 giocatori è una banalità ma è una frase che vale sempre la pena ripetere poi tutto si proietta all'otto di agosto 2020 giorno dell'esonero di maurizio sarri di conseguenza viene scelto andrea pirlo e qui ovviamente l'arrivo di pirlo all'interno della continassa che saluta tutti degno di nota assolutamente è la prima diciamo la riunione di agnelli nella sala riunioni con tutta la squadra e lo staff tecnico agnelli dice due cose che mi hanno colpito tantissimo e che sono già girate sui social tra l'altro ha detto l'anno scorso quello con sarri tra parentesi l'anno scorso nonostante i risultati sportivi al di là dei risultati sportivi per me è stato un anno di merda testuali parole del presidente agnelli e l'avevamo capito è che con quell'anno lì con sarri non è che era andato tutto proprio rose e fiori ma poi ha detto anche un'altra frase da papà diciamo da presidente no non l'avevo mai sentito così agnelli sostanzialmente ha detto ha parlato di pirlo ha detto che è una scelta coraggiosa una scelta che ha fatto lui in cui crede molto e poi rivolgendosi a tutti i presenti dice prima di toccare voi dovranno passare sul mio corpo testuali parole mi ha colpito per questo quindi grande presidente vai sei uno di noi ti vogliamo bene solo che poi subito dopo è successa una roba che mi ha dato un po fastidio c'era l'immagine dopo diciamo lo spezzone dopo era ronaldo a petto nudo seduto alla continassa per terra che prendeva al sole e spiegava io sono il medico di me stesso il mio nutrizionista mi prendo cura io so cosa devo fare su me stesso prendo il sole venti minuti perché so che mi fa bene se lo prendessi tutto il giorno mi farebbe male mi verrebbero le rughe dei problemi venti minuti top ed era lì a parlare di questa roba esce dall'interno della continassa agnelli lo guarda gli dice in inglese metti la maglietta con lo sponsor ronaldo lo guarda così e dice sponsor finito e se ne va agnelli non mi è piaciuta questa cosa ho capito che era una battuta è però cazzo passa lì il presidente agnelli guardi ronaldo e dici metti lo sponsor metti la maglia con lo sponsor cioè mi sembrava la scimmietta che gli le in mano comprate le cuffie più belle del mondo ciao sono cristiano ronaldo ecco mi ha dato quell'impressione lì quindi insomma un po così no da trattato come da uomo immagine che vabbè mia mia impressione ditemi la vostra qui sotto poi c'è stato lo spezzone in cui ha iniziato a parlare paratici che in macchina guidando dice è stato un anno durissimo ricordiamo che era il 2020 era agosto e la pandemia il covid il disastro e tutto quanto che conosciamo bene a quel punto si intravede non non si non viene detto moltissimo ma si intravede una prima riunione del mercato tra pirlo nedvet e paratici che cominciano a dire i guain deve andare via ci manca un attaccante delict rientrerà a novembre e cominciano a parlare di mercato poi mortalì non hanno detto grandi cose incredibili invece paratici ha rivelato una cosa secondo me importantissima cioè sostanzialmente parlando del di ronaldo ok perché c'è stato un accenno alla juve che ha preso l'anno prima due anni prima il calciatore più forte del mondo ronaldo il più caro della serie a eccetera eccetera sostanzialmente paratici fa una confessione dice sono stato io a dire a dannelli e allo staff vi devo dire una cosa ma promettetemi di non ridere allora lì ha proposto ha detto signori ci sarebbe la possibilità di prendere cristiano ronaldo questo è vero non dice una bugia paratici è assolutamente è andata così soltanto che sappiamo sappiamo conoscendo ormai le dinamiche come si sono mosse le cose che paratici ovviamente essendo poi il ds incaricato di monitorare le trattative ha avuto sostanzialmente da mendes agente di ronaldo l'imbeccata che ronaldo vuole andare via ok c'è l'opportunità lo volete quindi diciamo che è più ronaldo col suo agente che si è proposto che paratici che è andato a chiedere se poteva prendere ronaldo questo penso che sia chiaro a tutti poi ovviamente paratici ha informato agnelli da quel momento poi tutto è rimasto nelle mani di agnelli perché noi sappiamo questo tutto quello che vi sto dicendo è extra serie sostanzialmente sappiamo che poi agnelli ha avuto il bene il benestare di elkan e addirittura di marchionne per muovere quella cosa che era il contratto per cristiano ronaldo però è stato paratici a cominciare a lanciare la possibilità ai propri dirigenti poi c'è stata la prima conferenza stampa di andirapirlo e quindi i giornalisti sportivi alcuni di quelli li conosciamo molto bene si sono visti c'è fabiana della valle e tanti altri ovviamente la cosa simpatica ma ad alcuni polemici diranno poteva evitarlo sostanzialmente finita la conferenza in macchina tornando a casa dice non mi sono neanche messo le dita nel naso e tutti a ridere sappiamo benissimo cosa si stava riferendo a me mi ha fatto piegare da ridere diciamo che c'era ancora quell'atmosfera sarriana nella juve e sembravano tutti molto contenti che sarrie non fosse più lì diciamoci la verità poi arriva il momento in cui pirlo con molta calma e amichevolmente prende da parte piazza e pellegrini sostanzialmente gli dice che quell'anno dovevano andare via non c'era spazio per loro poi c'è la scena in cui baronio va a cena a casa di pirlo ok amiconi due con la moglie di pirlo che spadella e cucina poi arrivano i bambini con la governante a casa di pirlo eccetera eccetera subito dopo mckenny prendiamo mckenny mckenny arriva lo accogliamo tutti chiellini lo porta in sala mensa diciamo così e parla con chiellini di tante cose in inglese eccetera eccetera a quel punto arriva la frase top della puntata chiellini gli chiede ti piace il caffè e mckenny gli risponde se bevo il caffè italiano mi cago addosso vi faccio vedere anche qua una foto in sovraimpressione è stata la frase topica della della puntata no a parte gli scherzi sappiamo tutti mckenny super simpatico poi girava per i corridoi con queste scarpe da tennis con le rotelle c'è una roba veramente da bimbo minchi americano poi subito dopo molto velocemente viene detto che abbiamo preso artur e nessuna menzione a pianici tra l'altro artur e kuluseski ok rimane ecco qua il problema che a cui diciamo attorno a cui ha ruotato tutta la prima puntata è stato manca il numero 9 manca l'attaccante manca l'attaccante continuavano a ripeterlo spesso a un certo punto si vede proprio paratici che prende da parte pavel nedved e lo sollecita dice pavel non possiamo più aspettare ci serve un numero 9 assolutamente l'impressione che ho avuto io era la fretta di paratici che gli mancasse l'input da nedved e agnelli come dire paratici aveva fretta ma qualcuno sopra di lui dormiva tra cui nedved che ma dobbiamo prenderlo domani e no vedi tu cioè era il 15 di settembre e il 20 di settembre c'era la prima partita di campionato ok vabbè è andata così poi tutto si porta in questa pompa magna della prima partita di campionato il 20 di settembre in casa contro la sampdoria prima partita di pirlo mille persone tra il pubblico perché in quel momento era così se vi ricordate la juve vince 3 a 0 gol di kuluseski a giro poi gol di bonucci e poi gol di cr7 tutto bello tutti gioiosi tutti contenti tanto tanto entusiasmo tanto entusiasmo io me lo ricordo quel momento avevamo tanto entusiasmo un po perché arrivavamo da una stagione sì con lo scudetto vinto ma non facile per nessuno con sarri e l'idea di pirlo ci ha entusiasmato tutti all'inizio ok sappiamo poi come sono andate le cose un entusiasmo che è andato scemando e io devo essere sincero ve lo voglio dire subito alla fine di questa prima puntata di all or nothing juventus a me dispiace ancora umanamente tantissimo per cosa è stato fatto con andrea pirlo è stato preso con tanto coraggio messo lì pirlo neofita pieno di difetti pieno di lacune sicuramente ma è stato bruciato secondo me che era il mio timore iniziale e poi mandato via in malo modo in qualche modo eccetera eccetera per forse oggi vista la situazione di oggi della juventus non siamo soddisfatti ovviamente di allegri e di come sta andando la stagione di conseguenza guardiamo ancora con molta nostalgia cosa poteva essere compirlo non lo so se magari arrivando allegri la juve era straprima parlavamo in questo modo parlavo in questo modo non lo so comunque umanamente mi è dispiaciuto ero molto entusiasta di pirlo e secondo me meritava di avere più tempo per crescere avendogli dato solo un anno e poi parcheggiato e mandato via non ho mai amata questa cosa concludo la puntata sostanzialmente finisce con la decisione di prendere alvaro morata quindi si vede morata tutto contento con la sua famiglia i suoi figli che arriva alla continassa torino a casa la sua sappiamo tutti essere gobbo gobissimo super juventino quindi entra saluta tutti e finisce sostanzialmente la puntata così note altre note sì ronaldo si vede si intravede in due o tre occasioni che proprio freddo un po distaccato da tutti anche quando va a salutare il presidente poi si gira e se ne va a parte quella frasettina non è che faceva molto compagnia abbiamo poi ho tralasciato tante altre cose ragazzi ovviamente andatevi a vedere la puntata casa di buffon buffon che ricorda alcuni anni fa cose sto il primo scudetto è bello è bello guardare queste serie questa serie perché fa vedere anche una un lato umano dei nostri giocatori io ho amato tantissimo le serie dedicate alle altre squadre me ne sono divorate e mi divorerò anche questa quindi spero che questo mio video po riassunto della prima puntata vi sia piaciuto come avete visto ogni tanto è anche uno spunto per dire cose mie o ricordare cose che ho vissuto che sapevo di quel periodo andremo avanti così farò una playlist dedicata a all or nothing juventus quindi continuate a seguirmi non vi so dire quando caricherò tutte le varie puntate le recensioni delle varie puntate ma abbonatevi al canale e attivate la campanella e quindi non vi perderete assolutamente niente ciao ragazzi ci vediamo molto presto fino alla fine forza juve